ciao mario ciao mario subito gli ex in bocca qui a casa generale vediamo cosa succede innanzitutto generale sei guarito perché hai avuto un problemino quanti follower ti salutavo stai bene? prima cosa la salute non lo so mica è l'inter che ti crea scomprenza siamo siamo carichi ragazzi miei partiamo con i pronostici non vorrei perdere tanto tempo perché la partita si commenta da sola allora i pronostici qui a fianco il kun bravo 1 2 bene già si parte alla grandissima io andrei dal fenomeno fenomeno 1 2 ma l'avete capito di questo è un devo dire quarta di finale tra 1 1 1 2 però voglio mettere sempre vingente 1 1 1 io 1 5 4 1 è strano strano che non posso dire che voglio dire pure io 1 2 ma 1 1 1 1 e qui facciamo 1 a 0 a milito 2 euro e ben vita io dico uno sciambo 0 a 0 però sentiamo l'unico che ha la verità qui tra noi l'unico che conosce quello che davvero può accadere in campo il nostro guru il nostro generale io penso 2 a 1 è una cosa umiliante è dura è dura è dura è dura ma noi dobbiamo provarci vedremo quello che è quello che accade prima di partire come al solito invitiamo a scaricare un punto fate come il generale state aggiornati attivi non perdetevi nulla generale grazie a voi ho visto anche benfica porto si è documentato su tutto fatelo anche voi che ci sono a dovete stare in silenzio pazzarone porca miseria che cosa fa se fa casino? non stavo guardando la direzione è solo casino fatelo anche voi il link in descrizione ho qui il cod per scaricarla forza l'interno non ti so lego di uno stai pure il tuo no stiamo parlando d'arte è serio ma se stanno fattendo la gestione non tenesi tutto il tempo per questo sta sempre a fare la loro ora dove è ancora no? ma si ma non ci sta in capito non la porta no 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 non lo ha fatto chiaro lo ha fatto ancora un defetto come ha fatto? ma ci mi ha fatto il frattato, non lo ha fatto il frattato avevo fatto come un giatto era? ho cominciato a giocare e per me ci sono tornati a giocare ma ora ho cominciato a giocare sempre bello, tra gente il fraseggio del perfine e bell' anche l'aventura mamma mia che ha comparato con questa cosa, che stanno facendo? se Marco Natalesci mi sento la stasera adesso la stasera di Marco ha fatto schifo si l'ultare pure se non mi sento la stasera un bastone qui fatti bravo Francesco lo devo dire che sbagliato la c***o praticamente si a meno come Ronaldo ti ha fatto una vialata forza Geko mamma mia l'ultaro santissimo l'ultaro che ha sbagliato il passaggio si ha fatto intercettare mamma mia mamma che sole che sarebbe che sta fatta? manda la porta che sei morto ma l'autare si è andata a cammino ma ha voluto passare, ha sbagliato ha perso tempo no, per me la mozzarella bravo bravissimo e tira di e tira di ha fatto uno stop ha visto uno stop che ha fatto bravo bravo bellissima mamma mia ma cosa ha fatto a mangiare questo volo laudato ma cosa ha fatto a mangiare questo volo tutto quanto non hanno criticato ha cacciato un pari di pallone non c'è non c'è è cacciato un pari di pallone da una porta perché c'è non lo ha fatto da lei non lo ha fatto da lei ma stai scherzando stai scherzando stai scherzando ma non c'è un braccio ma non c'è non c'è che ha fatto da lei ma non c'è ma non lo ha fatto da lei ma non c'è per l'altro non segna ronaldi non insegniamo non capiscono le tavole non lo ha fatto il cross stessa cosa non lo capiscono pensavo che era Gekko non c'era mai cosa non ci credi che mi ha traduto non voleva non voleva non voleva non è che è stato un colpo di testa veloce ci c'è una polla c'è una polla che testa no si è una polla di tenza ma non è Gio Mario si è giocato io ti prendo solo a mente infatti ci sono scarto a scarto è una polla di tenza del generale salvato si vede da quello lato parlo si vede no toccate gambe al pallone è stato un bastone ma perché vuoi tu non sei lei giù non è non è un'occasione dai dai si è appiccata un'altra volta siamo un bastoncino che al primo ne aveva fatto una bello bellissimo mamma mia mamma che sbaglio segna però mamma che sbaglio segno che passaggio e che grosse hanno fatto il bastone non mi racconti è stato un prodotto non ha parlato il vostro quartiere non ha parlato al quartiere c'è tutto il mio lavoro ci ha battuto no ha peccato del fanzone proprio se l'utterane una castaglia non ha parlato del cuore se non lo fa o io v'è passato con la pelle così con il quartiere a terra mi ha stampato che c'è da casa proprio il quartiere il quartiere a terra il quartiere non apriamo non fa le mani stanno guardando se non è un po' di pensare vedete va fatta a correre o va bene vediamo che dici ci sanno fare vedere c'è un po' di bordo c'è un po' di bordo ma non va dire tu è un po' di bordo ah è che è un po' di bordo se non lo ha fatto prima se non lo ha fatto prima non lo ha fatto prima non lo ha fatto prima ma la testa però il braccio è staccato al tuo corpo e poi col braccio sinistro e poi col braccio sinistro nuota 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 vai non le esultate prima eh ma l'ha dato già quei soltari lo carico del 300 com'è? no no, non c'è tanto d'accordo lo carico, 100% con l'inder no no, non c'è di statistica la statistica è questa la statistica perchè è proprio con la mano così quando la mano è sopra hai capito? non è comune di voi sul rilogio, se lo vedete al distretto 100% col realizzato con la maglia dell'inder in realtà non lo voglio vedere no 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 vuoi andare a scatere? invece tu hai venire a scatare, non hai avuto la risa a sto qua il concorrenti si è concentrato si è si è ti è mani da loro ho un stesso seguito 100% lo fatto, gol! E' 100%! Ari ha visto, non è visto! Eeeh, compagno! Quanto era perfetto! C'ho le acce di legge non sono tosti. Vai, vai! In seria! No, dai! Cos'è anche quel gol? Si è già arrivato, lo ha comodo. Si è trovato niente. Tu, mamma mia, te l'hai evocata. No, perché non lo so. E' un bellissimo! E' la miseria, mamma mia! No! Bravo! Mamma mia! Che palla! Che palla! E' nata subito a correre del primo, no? Ma tu stai spezzando! E' finita! E' finita! E' finita! terza generale! L'ho troppo voluta! Ma hai scusa poco, l'altro? L'altro secondo! Li ha fatto un po' di order e guarda che c'era da mangiarci proprio le mani! Si è sinto così! Grazie a tutti